e non è ancora finita questo è il brutto se questo è il pre boss il boss non è cosa se questo è il pre pre boss è più grave aspetta un po aspetta un po segui i sussurri bellissimo st albero però come era vendo chissà com'era si riesce a salire chissà che come era questo posto quando i guardi di ferro lo utilizzavano c'è cosa c'è cerchiamo in tre di salire sullo stesso arometto non penso che si vada più sui piccato la testa trovate voi se c'è un muro invisibile però bello però qua c'è un cadavere soprattutto il muro invisibile bellissimo porca nota se c'è qualcosa in giro aspetta aspetta un attimo aspetta un attimo voglio vedere una cosa fatta un secondo allora questo è il portatrice di desideri però portatore tiro si è rovinata la signora sopra se ci fossero dei collezionabili e infatti trova le nostre yankara sparse per la segreta rovinata la signora della guerra vabbè ma lo faremo con calma adesso a finire pensiamo a finirlo no no stava a finirlo per cortesia pensiamo a finirlo i sticklet ci pensiamo dopo però stava a vedere se ce n'erano e figuri sono e ci sono e bongo e bingo bango bongo ci sono un sacco di casse qui ehi io scelgo questo io scelgo quest'altra io l'ho aperta ma non sono morto questa era buona quale 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 scusa scusa questa che culo questa qua no però io non lo so come però io non so non è che era buona non ho capito questa qua questa qua quella sinistra dai dai vado io le provo tutte comunque sono morto di nuovo sono viva sono morto sono morto vai so che a te racconto quanto so forte qua c'è un posto per cui possono nascere i nemici ma che stran senso ha in questa stanza ma c'è un premio è un gioco no no però c'è un braciero la qui c'è un braciero cominciamo a dire via la viglia periglia la viglia la vergogna solo me non passa nel buco perché non passi nel buco un po' il suo grosso abbiamo adesso di là non lo so non lo so perché vedo quali sono fatto di rosso dove è di rosso di qua oppa lei ma cazzo grappati non è nella maniera questa qui per anno su mi so ciao ragazzi ciao vieni qua vieni qua vieni qua spariamo in testa a draco si vorrei diventare un frulli un frulli ehi salutami ho prezzo di regalo c'è una lama vendicativa questa è cazzatella ingazzatilla che cazzo nini aspetta un po' qui non c'è niente no qui c'è un spawn in basso allora qui aspetta 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 che quello mi sa tanto di parkour a segreto a te no no aspetta no aspetta aspetta però farà vuoi 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 dire una cosa tu eh guarda po' quel parkour segreto salta in alto vedrai un pezzo di neve incredibilmente realistico guarda qua spiegati dove? se lo sto scattando te eh l'ascolta muro basta dove vai ferà? guarda guarda hai visto? mi giuro che ti sparano c'è un muro invisibile qua signori guardate questo bellissimo blocco di neve qui girate dov'è qui? è un un po' un po' piatto vabbè possiamo andare possiamo anche andare non era previsto che andassimo lì eh? no sembra una bandiera in lontananza eh vabbè è tutto così in realtà il gioco solo che quando lo vedi aspetta no ragazzi non mi ha saltato non mi ha saltato allora ragazzi proviamo a guardare avanti no aspettatemi ragazzi grazie o andiamo lì dentro andiamo un attimo lì dentro lì dentro dove grazie? guardare avanti sembra la scelta più logica è quella che non vedresti noi conosciamo conosciamo le capacità di infamia della banda adoro questo rifragliatore guarda secondo me bisogna andare di qua dai che cosa l'hai ridotta? che cazzo di figata è? eh madonna che il nucleo provando allora proviamo di là davanti a vedere dove si va arrivo no pera pera oddio perché mi ha seguito di qua? non lo so perché hai detto arrivo arrivo ma non lo so perché va bene ragazzi non ci arrivo non so se ci arrivi senza lo slancio hai rotto fea hai rotto eh senza cazzo devo dire sono rimasto vivo solo per lo slancio andiamo un attimo di qua dai andiamo un attimo altra strada dove porta se tipo porta a un altro ingresso oppure questa qui è semplicemente un'altra zona no ho sbagliato ho voluto tomare distanza dove dove l'ha risponato? mamma mia arrivo ah no non serve 185 giorni a finire effettivamente c'è un ingresso qui ok un momento di panico ma c'è pure una cassa ma c'è pure una cassa dove è la cassa? dove c'è la cassa? dove c'è la cassa? non fria crete è una friabile cazzo recuperate il ferro di ci serve come medico come faccio come dispersione a dispersione livello 1 necessario ok di qua c'è il secret di la c'è l'ingresso vero io non ho capito però poi voglio guardare un video probabilmente sarà alla fine quando esci 1 e per quella di livello 1 2 per i due penso no esatto se città di darà magari di settimana in settimana cose così come del cazzo oddio lunga 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 ok si vengono attenzione a scivolo ragazzi si scrivono il boss si aprono quelle porte si sono caduta mi ha fatto mancare il terreno sotto i piedi si è scivolata giù dracos sta dietro dietro 44 e si fa morire ma ancora gli animali ma ancora gli animali bastano morire per amore di dio prima signora ma davvero due volte smirata non è possibile ma porco lo dico io però mi fermo che porco ucciso il marco con un martellino crociolo ci vuole un culo dalla madonna quando sbaglio e saltano incazzo con una biscia allora grazie è che cacchiori ai fra giulio è che ci siamo ci siamo vergognati peppe che è completato una frase che non dovevi dire vergogna ma raga raga urtacrata non poteva essere il tuo segreto oddio ma che paura ma che paura scusate scusate mi rianimate se moro se muoio io fa una cosa fai se tanto muori di sicuro dalla cosa cosa pensa bene no ma se ne andiamo a no 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 fermi bello però ti faranno di confronto però questa questa è un po ea si è piantata qui però dai poro ho bello questo è la mentazione perfetta per giocare io perché continuo ad andare sui bordi perché anche io piace vedere supporto poi cadi mori ma c'era un'altra porta di là però no infatti infatti questa è la porta sbagliata ferrandil dove stai un passato da fuori però potete passare anche da dentro penso c'è una porta ma sono osservazione punti d'osservazione ma sì devo seguire fea e dove sarà nata di qua sicuro e qua che lo pene lo dio e niente se aspetto voi ascoltare io al fenomeno e allora ci voglio andare raga un po di pompa mi muori per favore perché ti seguo dietro dietro vai dracos apri pure tu apri vai vai ci siamo noi che ti proteggiamo dai mi suicido mi suicida veniamo signore l'ho perso un troppo giù allora niente di qua non si va da nessuna parte che bello non è la plana dello stregone posso fa il giro e tornare allora aspetta un po ma io la fai il livello tra il necessario ma culo perché stai sparando tra costo non vedo niente c'è la razza d'ora oddio oddio si può stare qui mi voleva buttare giù l'avete visto tutti c'è le testimonianze video si si c'è il voto per fortuna c'è un'altra cassa e dracos c'è un'altra cassa aspetta le dico subito se c'è altissima purissima nevissima che sfiga già poiché siamo arrivati qua cosa facciamo scusa ferra spostiti perfetto ma chiedo questa montagna shadowbreaker adesso andiamoci ma io ragazzi mi sta andando io ero in una zona dove non posso di qua non è di qua ragazzi che dobbiamo andare si si no ragazzi ho fatto cazzata dolore dolore madonna che brutto guarda su così a posto che bello essere l'ultimo membro in vita della squadra guarda un po' guarda che dobbiamo rifare tutto il giro no ma devo sbagliare il saltello secondo me si grazie secondo me possiamo arrivare là e che cacchio racconta i materiali racconta i nuclei prismi modularità quindi la snada di qui interrompi il salto e rifarlo quando sei così in alto vai molto più lontano si 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 oh cazzo oh cazzo no 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 ok sto rimparando a cercare il caro vecchio ass dai ass serve a un cazzo andare qua da qua siamo arrivati ah no e ci sono i ciccioli oh madonna guarda oh madonna quello è sempre il mone ok oh oh potete mettere queste robe vabbè poi io prendo questo cazzo di cose e volo indietro oh guarda oh no oh 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 ciao la mano indicativa mi ha sparato in testa mi si è messo sopra sto figlio d'ancara eh d'ancara era l'ultimo che mi viene a mente carica lì vedi carica ma cosa se li ha pusso alla pianta come dicono a lori oh ma bomber ci sei ancora? guarda che devi farla anche te poi te io ho già finito a bomber bomber sì bomber sì peppe fa finito peppe perché vedi che dracco sta chiamando peppe noi stiamo facendola con molta calma comunque no davvero no nel senso che proprio la stiamo tenendo veramente sì siamo rilassati no però 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 fermate cioè laggiù c'è un grobo quelli là di toland dove? laggiù è? all'improvviso un cazzo di legno è volato attraverso tutto il corridoio va a vedere ci vado sopra? no requisito non soddisfatto non ti vuole sopra la palla che palla che palla di palla eh sta palla non ti vuole sopra sai bene? come cos'è che gli senti un passaggio? vai vai ora vabbè dai consumiamo queste granate salutatemi salutatemi il fuoco sai che bello giocare una modalità sai che potrebbe essere incendiari manipoli tre incendiari dei cabal hai mai lottato il sole? e non si continua no ma l'emote sai senta? sì io sto aspettando il mio video aspettate ah guardate qua c'è dice un cerchio dello standardo ci sono un sacco di braceri e soprattutto c'è un bracere grosso centrale quindi di boss fight mi ricorda eh guarda quella di rex è una ossa di Ankara non lo so credi sì ci sparo scusa e ho prima a mettere la bandiera va? adesso vuoi farmi pesare una volta che sparo via così a cazzo va bene flacca la contaminazione va bene flacchiamo tutti cosa vuol fare? vendichiamo ferro dai ferro allora io sono qua davanti e c'è una flaga una plaga muero 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 questo è il preboss gente dice uno ecco ci siamo una cipola allora quando facciamo le magliarde guarda quante occhietti ho davanti una magliarda che probabilmente non ci sto simpatica ho questa ho letto tesoruncia ah cazzo tesoruncia 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 tessi corruzione ha tirato dal desiderio guarda io rischio la vita con le salve ragazzi ok via le fozze oscure tessi corruptore è andato porco clando cosa succede ragazzi vedo strano cazzo c'è gente immune se vedi strano qua allora c'è uno che devi far fuori dobbiamo conquistare è troppo sacca merda ragazzi non l'abbiamo conquistato no no l'abbiamo conquistata l'abbiamo conquistata allora c'è qualche altro pezzettino di meccanica di serenere mi sa che qua non mi serve vorrei cambiare legno scrivete le peppe scrivi legno bravo legno ma soprattutto metto l'impatto solare ma metti quello che ti trovi bene polizia polizia un sacco di polizia va bene metto l'impatto solare a posto vado sono caduta perfetta è sbalorditivo sbalorditivo ho messo il tiro sbalorditivo la signora no cazzo mi ha tirato giù mi ha fatto un po' la cretina per non dire un'altra parola grazie un impulso e via sono fottuta e mi sono trovata in mezzo mi sto un po' pushando fatemi rimettere un attimino non da titano per favore grazie è finita oh se vuole che il titano è un'altra parola e la fa pushare vuol dire che fare ok bisogna fare le piaghe ragazzo se non le vedete secondo me è spiata va bene ci siamo persi un po' nella prigione e Drakos è impazzito venite qua venite dove sto io uh anni 80 e io sto conquistando Drakos arrivo arrivo Drakos che cazzo dobbiamo fare non lo so ciao Danny guarda quante kill l'ho fatto io poi non dite che non vi voglio bene notare però non ci sono più precise ovviamente scherzo bravo Drakos e tutti noi allora aspettate che arrivo sono negli anni 80 io sono negli anni 80 lui è degli anni 80 ma che si era travesti di giovani lì all'improvviso mi dà il punto di domanda fermi lo vedete di là Drakos sei vicino al tuo nome no non mi dà nessun punto di domanda sappi no sta un po' io sto fermo ah perché non non interagisci col guardiano ok è partito forse ho capito bisogna scoppiare queste bolle d'oscurità che ci abbiamo qua ma volete conquistare cinti non lo so ma non li fai danno ma no ti sta a fare la contaminazione bello ogni 80 grazie bene raga gli occhi gli occhi gli occhi grazie non ci sono l'arco ciao l'arco l'arco me ne vado io me ne vado voi me le spugnate sembrava un'altra cosa allora la plaga si l'ho tirata giù ok ma dopo di che ci dobbiamo mettere qua vicino al quinto cavaliere non lo so io qua conquisto però poi moriamo lo stesso non penso che sia questo quelli sono immuni quelli sono immuni bevi incantesimi quelli sono immuni sono due dracos i nuovi però che ti sembrano dubbi la realtà sono due dracos si no no sono due dracos quello che parla a proposito è quello intelligente grazie e come mai come mai non ci giochi più miux raccontaci 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 perché perché allora tu dici nella zona qua bisogna andare infatti ce ne mancano mi fa ognuno ea gente qui gli occhietti gente pensavo a gli occhietti e a che punto sei arrivato dove ti sei fermato oh gli occhietti mi avevi dimenticato oh l'hai detto venti volte i occhietti io sparavo i mobi sull'autista ma quindi abbiamo capito cosa dobbiamo fare qua ragazzi no non ho ancora capito ci sono dei tizi che escono immortali secondo me quando conquistiamo li possiamo ammazzare ok muoio io me ne vado me ne vado via ancora immune giuro che mettono a radianza poi incantesimo della contaminazione vendicativa zero cioè sei mi ha dato qualcosa trasferito sei arrivato a oltre la luce adesso ci sono un sacco di fette grande vendete di giochi da pc play o xbox guarda vediamo un po' che dice qua allora io in fed lo dobbiamo ammazzare quello là è in fed dove è quello là è il bel si il figlio d'ancara ci sono un sacco di offerte adesso però vediamo anche su instant gaming c'è un po' di offerte in giro se ci voglio ancora giocare ovviamente no bisogna prendere qualcosa bisogna prendere qualcosa da quelli là da quelli lì che ci io metto la radianza appena vedi giù la roba di comunque e vedo che cavolo è io li faccio dall'altro lato va magari vanno fatti tutti non lo so lo so tiro di sticcacchio di occhi pure rimanca l'arco bravissimo ti fatti ok vado sotto ma dai stavo facendo l'animazione della cosa mi ha ucciso non vado vado da fea spero di sì è arrivato quello in scuro lì è morto non capisco jess e anche cosa ho capito un cazzo comunque sì 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 facciamo da soli oh sì ma non riusciamo a capire lo stesso almeno che non lo stai lucubrando anche tu allora ne va bene se ne spero lo sai già no dai allora io vado a sinistra poi state a destra cerco di non morire tu stai andando a sinistra però perché ma no è mia grazie allora dimmi 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 se non sai nulla allora vale mi metto in mezzo sto punto io l'ho mai visto occhi erano belli gli occhi neri sono belli gli occhi blu sono belli gli occhi fsioni sì fsioni sì mi piace l'olio di Dio è ormai questo è un delirio di mezzanotte dobbiamo tirare giù questi qui io non capisco sì questi tirano lì giù secondo me sì e adesso che abbiamo questa cosa dove ci devo ammettere ci sarà un posto dove ci devo ammettere questi sono immuni incantesimo a continuazione e moriamo e io stavo cercando di capire se è andata a qualche parte ah devi stare quando arriva la fine l'incantesimo devi stare dentro la zona del dove è della zona del desiderio dove facciamo il robo lì dove facciamo il robo lì mi inquieta cos'è il robo lì come cazzo si dice quello oscuri dell'oscurità vabbè vi facciamo quando facciamo andiamo tutti dello stesso lato quando facciamo il cavaliere viene fuori la cosa da conquistare rimaniamo dentro la cosa da conquistare quando arriva a zero l'incantesimo li siamo protetti ok lì non sono morto ok fondamentalmente per cui una pozza lì e siamo tutti lì timo sarei pirla poi vediamo che succede dopo perché parliamo ma riuscivano anche capire come fare danno questo prima cosa la faremo non lo so c'è altro da fare no occhietti occhietti e giustamente io a occhietti ho deciso di sparare alla simpatica davanti bene ok si goffea c'è qui guardate dov'è che non poteva andarlo ho 7 secondi arrivo aspetta l'ora di andarlo abbiamo andato come ho fatto a sopravvivere prima allora ma senti l'ultima volta è il 1310 iniziate mi faccio un giro vediamo se da qualcosa facciamo un giro fai fai inizia facciamo un giro a vedere se c'è qualcosa di attivabile i prossimi bracieri a forse una cosa non fate gli occhietti ok fate le magliarde se facciamo le magliarde escono i tizi là con il desiderio forse dobbiamo fare prima quelli poi fai gli occhietti no bisogna fare gli occhietti perché escono brava facciamo gli occhietti ecco st'orellina però è la tua sorellina un po' non posso prendere questo proprio spazio quindi siamo anche raggiù il signore non capisco si facciamo le piaghe mettiamo forza facciamo anche l'altro la teglia è calda che lo metto di là si forza per me è tutto il mondo è una gioia non è così signore brandil hai liberato la vendetta contaminante come hai fatto io ti ho giocato si dici danni che io non guardo mai i buff quando è che è uscita però io dico questo è quando quando ho fatto la quando ho conquistato paura panico 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 ma non ho fatto in te paura questo sarà mai dove usciranno le palle se non escono le palle da qua si e dobbiamo conquistare quella zona di oscurità che diventa della esatto sì sì quello l'abbiamo capito ho capito ma l'abbiamo conquistata due perché siamo esplotti invece voi le avevate conquistate cazzo eravano lì sì eravano lì sì o le avevate conquistate mica sono stati 13 secondi per poterle conquistate non lo so e riproviamo io le ho tirate un corpo a corpo ai tizi non lo so proverò non lo so io proviamo devo prenderlo semplicemente con un corpo adesso ci provo può essere dobbiamo giocare a cera a capparella ok fa simile lo stai dicendo tirargli un corpo a corpo e non farsi colpire ah davvero c'è lo schiacco no forse è un'ipotesi va beh da noi ce l'ha diventati immuni poi gioppini è dentro forse se li tiro il corpo a corpo li faccio qualcosa andiamo a andare a prendere si quindi andiamo dracus metto io metto io metto io si è così si è così non ho capito è capito praticamente arrivano e danno così e poi e danno arriva e meno spiegati dopo l'hanno capito intanto il mone già ok buttatevi che ve lo spiego allora allora quando sei dentro la zona conquistata se gli tiri un corpo a corpo non so se quello caricato ti toglie l'incantesimo se ti ricolpisce quel limone te lo ridà aspetta devo controllare vabbè io lo schiocco c'è nel corpo a corpo caricato se lo sbaglio no? no non caricato secondo me sì no infatti devo togliere lo schiocco allora no basta che va no anche io lo schiocco basta chiusire il tasto per non fare quello caricato devo ricordarmi quale hai aspettato a vedere intanto corpo a corpo automatico c il caricato x scusate hai fatto vedere la cosa? eh no mi fa lo schiocco lo stesso auto ma non devi togliere auto ma non devi togliere non devi fare il corpo a corpo automatico corpo a corpo non caricato devi mettere ah non ce l'ho allora tolgo via corpo a corpo a corpo automatico giusto? eh come lo metto? e metti c il corpo a corpo non caricato e x è eh sì 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 metti quello caricato su quello che usi di solito l'altro fai quello sì 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 ma che ne pensate se qualcuno di noi si mette il gallo visto da quello che ho capito eh ci abbiamo pure poco tempo non voglio non voglio assolutamente impostare il testo come faccio ragazzi ah basta fare così cretina io cretina io ci sono ci sono ci sono scusate momenti difficili sì e adesso qua mettevo la x qua il corpo a corpo caricato sì ci sono la x non è caricato perfetto adesso vai sulla mira te l'avrà tolto dalla mira provo a mirare è già vero? ah 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 eh mi ha tolto tutto ma ha tolto aspetta no mi odio mi odio adesso mi faccio andare via no no aspetta scusate faccio le cagate poi mi pinta allora quattro quattro imposta spara giustamente spara cosa uso questa qui per forza e devo togliere via ma domani posso aver fatto ste cagate sì 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 personaggio ma come cazzo fai ah no non ho più la ragazzi sì no la mira devi mettere eh sì è certo che sì spara scendi sotto lo spara tieni premuto per zoom vai sotto sì questo qua no tasso destra no premi per zoom ti entra nella mira e ti c'è dalla mira quando clicchi tieni premuto per zoom e l'altro ok non lo trovo e te ti hai premuto per zoom devo fare no e tu hai messo premi per zoom no tieni premuto per zoom adesso indietro sono indietro su sun live ok e questo invece per sparare di solito io premo giustamente faccio questo ok a posto dove sei tornata normale eh alleluia quando faccio le cattate le faccio qualcuno di noi si mette un gallo io c'ho quello col bipode voi lancerà di col bipode sento aspetta vado a vedere però devo togliere via infatti così me ne frega qualcosa tu cosa stai usando di esotica l'impatto scusate una cosa per togliermi ah niente farà io ho già preso la bandiera per quello di ah beh ci buttiamo tra questo che cazzo il problema la metto io mi date un secondo ragazzi che ho fatto la traccia si si facciamo partire buttatevi ok ti butti giù tutto qui allora vediamo un attimino cosa posso prendere a posto di questo l'avete detto scusate un lanciamissili dovresti prendere o con ricostruzione o con bipode è arrivato in frenesia patto esplosivo non serve a niente il soffio del drago i rati va bene no? non va bene il soffio del drago assolutamente no? non lo provo non lo so però è esotica così ti metti uno eeeh testa calda? vai bene testa calda farei con il gialla fai i razzetti del giallo quello è un vantaggio mi piace ci ho fatto a mancare ci vorrei metto gialla mi chiede gialla? eh? no no perché l'abbiamo lasciato per quello ah grazie che carini bandiera qua mi chiede gialla?